Il film assolutamente da non perdere sono By Yourself di Andrew Cotting e Triocala di Leandro Piccarella. By Yourself è un esempio di documentario performativo, sono quattro persone che se ne partono insieme a seguire le orme di un poeta dell'Ottocento che si chiamava John Clare e accompagnati da un direttore della fotografia, da un direttore del suono, da uno psicogeografo ed è un lavoro interessantissimo. Triocala di Piccarella è uno sguardo su questo paese della Sicilia, Caltabellotta, che prima anticamente si chiamava Triocala ed era uno dei centri della cultura siciliana ed è un film che parla delle eredità, di quello che c'era un tempo, di che cosa c'è rimasto di quello che c'era un tempo e di come noi possiamo vivere con quello che ci è stato tramandato dagli altri.